E' perché nel senso che dopo un mese di sciaffolato c'è ovviamente un gergo di sciaffolato per esempio quando tu hai bisogno di soldi, quando non vuoi spendere tanti soldi non dici non voglio spendere tanti soldi o ho bisogno dei soldi, dici ho bisogno de... dell'argent, perché l'argent è fondamentale quando vedi uno che fuma una sigaretta, non è che si sta fumando una sigaretta, si sta... smaffando un carotto quando vedi magari, sai quelli un po' con le gonne lunghe, piedi nudi sul metro che ti rubano il portafoglio non sono degli zingari, sono degli... sono dei grattati no, sono degli... degli zollari, chiaro, gli zollari perché altrimenti quando vedi magari uno che ti chiede la moneta, tipo così, andare a bere che ha pochi denti, tipo così, quello lì non è che è un barbone, è un... è un topaz grattato che differenza c'è tra il topaz e il topaz grattato? che il topaz è il topaz normale, quello che è topaz... lo puoi trovare così... il topaz grattato è quello proprio che dà il grattume cittadino tra le sei città di sciaffolato, qual è stata la città con più grattati e più topaz? secondo me è Parigi grazie a tutti grazie a tutti